Quando Giovanni Battista volle preparare il popolo alle venute del Messia, tenne una serie di discorsi nel deserto e una espressione dominante era A diri vero come preparazione a Natale questa espressione suona un po' male perché noi siamo portati più per la gioia, per l'allegria, per stare bene e fare penitenza è un po' doloroso, eppure è necessario prepararsi alla venuta del Messia. Così possiamo comprendere i sacrifici dei martiri perché vanno addirittura incontro alla morte ma perché? Per una grande finalità. Allora quando noi ci prepariamo a Natale andiamo incontro a Cristo che porta a noi la salvezza e l'amore, la pace, la serenità. La vera gioia del Natale si può gustare se riusciamo a creare a nostra volta pace, serenità, amore, perdonare quando sarebbe bello incontrare un capo ufficio, un ex amico, uno che è stato alle nostre dipendenze e ha tirato calci e volgergli il sorriso, auguri, buon Natale e festa. Il Signore Gesù ritorna sulla terra, vive sulla terra, si fa uomo come noi, sposa la nostra causa. E' una gioia più grande di questo dove la troviamo? E quindi allora il Natale è in proporzione di come noi ci rapportiamo al messaggio di Gesù. Giovanni Battista grida, pentitevi e fate penitenza. Che cosa dobbiamo incontrare? Quindi la prima cosa è stendere la mano verso l'altro, il segno del perdono, il segno dell'amicizia. Se tra marito e moglie dopo una diatriba, una discussione ci sono ancora i musi appesi, ecco un bacetto, una rosa, un segno di amore ed è Natale. Ed è Natale. E così tra superiori e suddi, così tra colleghi di lavoro, supposti di lavoro, eccetera. Ecco, creare l'ambiente della serenità, l'ambiente della santificazione. Potremmo noi a nostra volta fare la preghiera a Gesù Bambino nel clima del natalizio che ci prepara al Natale. Potremmo pregare Gesù Bambino, aiutaci. Con le nostre forze noi non siamo capaci di mettere a tacere il nostro orgoglio. I nostri principi non ce la sentiamo. Però come ci sentiamo scomodi a metterci in ginocchia davanti a te, così tuo Signore comprendici e aiutaci. Aiutaci, anzi direi, già che siamo difettosi, aiutaci, ma state lontane da noi. No, no Gesù Bambino, no, non sia mai. Stai sempre con noi, insieme a noi. Tu Santo, noi peccatori, se noi vediamo continuamente la tua santità, se noi continuamente vediamo come tu vivi e qual è il tuo messaggio, anche noi siamo sforzati a portarci meglio. Anche Padre Pio, il piccolo Francesco, viveva in un modo particolare il Santo Natale e si preparava come? Anche costruente il presepio. Certo, a quei tempi non è che ci fossero i pastori che si comprano al mercato e bisognava prendere la creta e confezionarli e poi prendere le lumache e servissero del loro guscio per fare le piccole luci al presepio. Ma che cos'era questo? Un'attenzione di Francesco a preparare non tanto il presepio inanimato, ma il presepio del proprio cuore all'arrivo di Gesù Bambino. Un'attenzione di Francesco a preparare non tanto il presepio di Gesù Bambino.